Musica Dopo aver effettuato le nostre prove in poligono come avete visto nella scorsa puntata è giunto il momento di cominciare a fare un pochino il punto della situazione per analizzare il metodo che abbiamo utilizzato fino ad oggi prenderemo in considerazione la rosata con 51 grani e 5 e 204 che sviluppa una velocità di circa 740 metri al secondo la utilizzeremo come esempio per farvi vedere come variano i click come variano le varie condizioni con un programma balistico in questo caso utilizzeremo l'infinite della Sierra a questo punto vado a introdurre la muzzle velocity che sarebbe la velocità all'uscita del nostro caso abbiamo detto circa 740 metri al secondo il sistema di unità di misura che abbiamo scelto è questo full metric che vedete qui indicato il maximum range cioè la distanza massima a cui andiamo a sparare per cui metteremo un 500 metri giusto per farvi vedere come variano determinate misurazioni al variare dei parametri in incrementi da 50 metri nel nostro caso con azzeramento a 100 metri lasciamo a zero l'angolo di elevazione e un sight 8 che è l'altezza dalla metà della canna alla metà del canottiale quindi noi abbiamo messo 61 mm circa 6 cm che è la distanza diciamo così che intercorre dal centro dell'ottica al centro della canna a questo punto gli facciamo caricare la nostra curva balistica eccola qua abbiamo una caduta balistica che va dai 0 cm di impatto con la taratura perfettamente fatta a 100 metri fino a 14 cm quindi 2,6 moa corrispondenti a 200 metri 54 cm di caduta o 6,3 moa corrispondenti e così via dicendo fino ai 500 metri spesso si genera molta confusione tra i centimetri di caduta balistica e il moa il moa altro che non è che un'unità di misura che sarebbe il minute of angle poi gli inglesi lo misurano a 100 yard che sono circa 90 metri 91 metri nostri diciamo europei in europa si misura a 100 metri per cui c'è un po' di diciamo così di errore generato da queste conversioni di dati tra sistema imperiale e sistema metrico in realtà per semplificarvi un moa sono circa 3 cm a 100 metri e questi 3 cm a 100 metri ovviamente quando vi dicono che 14 cm diventano 2,6 moa altro che non è che 2,6 moa a 100 metri quindi a 200 metri diventano 5,2 moa moltiplicati per circa 3 cm sarebbero i famosi 15 cm infatti il programma vi da 14,97 di caduta a grazie iscriviti al povere